L'iniziativa che oggi si svolge ad Augusta in realtà ha avuto una puntata precedente proprio a Catania dove sono stati presentati alcuni casi di studio relativi alle zone industriali meridionali e al tema appunto del convegno che è quella della deindustrializzazione della questione ambientale. Con deindustrializzazione noi intendiamo la perdita di capacità industriale dei territori che ha come conseguenza anche appunto la permanenza dei siti inquinati e quindi anche tutti i temi legati ai conflitti e alle controversie ambientali. Oggi dopo aver ieri affrontato questi temi dal punto di vista della ricerca scientifica intendiamo appunto aprire un confronto con i soggetti sociali presenti sul territorio agustano che tra l'altro è stato oggetto di una relazione della professoressa Benadusi ieri e il tema sarà appunto quello di capire se siamo di fronte a un processo di deindustrializzazione e qual è la portata della questione ambientale in questo territorio oggi. I risultati di questi seminari che state conducendo fra Augusta e Catania saranno pubblicati? Devo dire che le relazioni di ieri erano molto interessanti e io spero proprio che si possa arrivare a una pubblicazione.